Nell'accogliente Sardegna Hotel di Cagliari, il circolo sardo automoto d'epoca SCQ, sodalizio federato ASI dal 1983, ospita i protagonisti che hanno scritto la storia dell'automobilismo isolano. In questa puntata del salotto SCQ, il presidente del sodalizio cagliaritano Nello Alfano ha intervistato l'ex pilota, nonché grande appassionato di automobilismo, Riccardo Cocco. Per tutte le informazioni riguardanti le attività del circolo sardo automoto d'epoca SCQ potete visitare il sito internet ufficiale all'indirizzo www.automoto d'epoca SCQ.it Apriamo ancora una volta il sipario sul salotto SCQ. Qualcuno potrà ancora non aver compreso queste tre lettere SCQ? Stanno per Sarrolu, del Sagarrozza, senza Guadus, che è la denominazione in sardo del circolo sardo automoto d'epoca, il sodalizio che si interessa appunto del motorismo storico in Sardegna, ricordo che esistiamo, io ne sono il presidente, da 1981, ma questo lasciamolo stare, perché oggi abbiamo con noi un personaggio, io lo definisco importante è anche fondamentale, perché? Perché è una vecchia gloria non solo dei tracciati di gara, ma anche una vecchia gloria della televisione sarda e in particolar modo di videolina, Riccardo Cocco. Buonasera, l'ho pagato prima, mi piace proprio averlo a fianco a me, perché mi aiuta moltissimo in questo mio ruolo, avendo lui una grande esperienza di trasmissioni televisive, ma gliel'ho detto prima in separata sede, quanti di noi negli anni 70 se lo ricordano con qualche annetto in meno, ovviamente Riccardo come presentatore e animatore di innumerevoli trasmissioni televisive che affrontava con simpatia, con entusiasmo e riscuotevano sempre molto successo ed era lo stesso entusiasmo e la stessa grinda che metteva nelle competizioni automobilistiche. Stiamo parlando di 35 anni fa, io ho iniziato nel 1976 a fare la televisione, e poi ti dicevo prima che io faccio ancora questo onestiere, l'ho fatto con più di mille trasmissioni, 6 settembre interviste, documentari sulla Sardegna, ma di me si ricordano solo per il film doppiato in sardo. Senti, per parlare invece di quello che è la materia che ci sta a cuore, io so che tu hai partecipato a un rally della Sardegna nel 1968, esattamente, con un Alfa Romeo Quadrifoglio che era una vettura molto appetibile, bella, ma da te voglio sapere, conoscere il fatto che comunque voi non eravate un equipaggio ufficiale dell'Alfa Romeo Quadrifoglio. Noi non eravamo professionisti, voglio dire, a Cagliari sono stati gli ottimi piloti, io li considero professionisti, Gianni Vacca, Mario Casuga, insomma sono persone che hanno fatto della mia generazione, perché poi i giovani di oggi mi sfuggono, so che ce ne è qualcuno, noi lo facevamo, era uno sport perché ci piaceva, non perché non avevamo per cui grandi macchine, grandi attrezzature, non avevamo certamente organizzazioni ufficiali e sostegno da parte delle case ufficiali, per cui anche il rally del 68 che fu l'ultimo dalla Sardegna, 2000 km, 48 ore senza… 2000 km, 2000 km, si partì un venerdì alle 21 da via Roma e si arrivava in via Roma, sabato, la domenica notte, partimmo in 50 e arrivavamo in 7, grande soddisfazione nostra perché eravamo arrivati. Sì, ma scusami una cosa perché io di te sono un anetodo, perché comunque si arrivava distrutti a Cagliari, distrutti. Beh dopo 24 ore… Eh, distrutti, con anche, come dire… Dopo 48… Situazioni anche un po' deleterie perché io so che tu al rietro verso Cagliari frenavi inutilmente perché pensavi che ti attraversavano mandrie di buoi… Beh, la stanchezza… La stanchezza… Io ero molto stanco perché non dormivo da… Scusami se faccio questo riferimento a questa netta… No, no, io non dormivo da due giorni e mezzo perché ogni tanto mio fratello vedo che si addormentava, ma io dovevo guidare. Poi le gare dire la verità, non è che devi fare piano, cammini come un treno, per cui sulla strada di Pula, mi ricordo, a 200 all'ora, vedevo attraversare le mucche, no, io frenavo, non c'erano le mucche. Non c'erano le mucche, erano allucinazioni ed erano il frutto di una stanchezza ovviamente. Comunque eravamo arrivati, settimi, l'alfa ufficiale da Milano non erano arrivati, infatti i meccanici di sostegno lo poi vengono a dare una mano a noi. Sì, perché spieghiamo anche questo, tu hai fatto bene a accennarlo, allora uno pensa a una gara di regolarità, bisogna andare a quella andatura o a quella media imposta in maniera che si rispettano i tempi. Non è così, bisogna anche… No, è così, ma non ci arrivi, perché gli organizzatori molte volte nel programmare i tempi imposti facevano delle situazioni tali per le quali se tu non… Le nostre macchine anche a quei tempi erano preparate, erano dei razzi, non riuscivamo a fare quei tempi, qualcuno di noi se la cavava anche alla guida, perché era lì, dice beh, re là, re lì, no, c'è le prove speciali dove… Dove arrivava poi a Cagliari? Via Roma. Sempre in Via Roma? In quell'anno arrivò in Via Roma, l'Eglise Sant'Angelo mi pare. Io ho fatto diverse gare, ricordiamo velocemente quelle che mi ricordo, mi ricordo la gare Sant'Angelo del 69 dove sono arrivato primo di classe con un abatto mille di albero, che era di Gianni Vacca, che io comprai praticamente il venerdì, mi ricordo l'assegno, meglio non ricordarmi, feci le prove ufficiali sabato e la domenica la gara, c'erano altre macchine nella mia categoria che era la Mille Sport, che ho detto, questi mi massacrano, perché io non conoscevo bene la macchina e in effetti io non feci questo grande tempo, mi ricordo che Gianni con quella macchina fece 5 secondi in meno, per cui non è che ero molto soddisfatto però ero arrivato prima, se ne fregano, però la soddisfazione c'era comunque, poi hai fatto anche la Montacuto mi pare o qualcosa di… Poi ho fatto la Montacuto, era un periodo in cui ci scambiavamo anche le macchine, ma non che ce le regalavamo, le regalavamo. Allora, la macchina l'avevo comprata io da Gianni, di albero, no? Poi Franco Brizolato, Franco Balestri, me la devi dare questa macchina che è una bomba, effetti erano belle macchine. Vedete come, amici miei, come ritorna ed è costante questa sorta di goliardia e di volersi bene… Insomma, io le avevo vendute la macchina, fatti sta gara, poi casolai me la rivendi e lui mi aveva detto, intanto ti presto una 8.50 a Barta con la quale poi avevo fatto la Montacuto, lì mi ritirai perché mio frattolo Alessandro ebbe un incidente, a metà gara il commissario Mazzella mi disse, Coco tu non parti che tuo fratello è caduto nel burro, per cui quella gara io non l'ho finita, però poi ho fatto la burcea… Cugino di Andrea? Io sono frattolo di Alessandro e cugino e collega di Andrea Coco, giornalista, che è stato poi anche lui, me l'ha appassionato, con Bevo Gasol, con Pallo… E chi era dei vostri padri o nonni? Si sono distinti, mio padre… Tuo padre che… Che c'era la Cagliari Sassari Cagliari… La Cagliari Sassari Cagliari… Perché noi abbiamo in archivio, e il merito è ovviamente di Rai 3, un documento favoloso che è una ripresa cinematografica o comunque in, come si chiamava, in 8mm, super 8, di una serie di vetture impegnate nella Cagliari Sassari Cagliari e dei filmetti dovuti e tuttora esiste ed è presente ed è una bellissima testimonianza per l'opera del papà di Riccardo. Allora, la Cagliari Sassari Cagliari fu fatta diverse volte, ricordo di una di mio padre, ricordo anche di una di mio zio Umberto, fratello di mio padre, e le ultime di mio zio Raul Coco, non mi ricordo se col papà di Gasole o col suo… Ma hai un cognome glorioso… Ma che… Ma sì, Coco… Ce ne arrivavano questi campioni con queste macchine… Parliamo della Cagliari Sassari Cagliari che è stata una competizione a livello internazionale, quindi non devi non poter mostrare immodestia per il cognome. Io ho messo perché quando mio fratello ha avuto un incidente, perché mi sentivo responsabile, perché come tutti i fratelli più giovani che tendono a fare quello che fanno i grandi, io ero molto prudente, andavo, però io volevo arrivare, Alessandro era un po' più… Esuberante. Barroso si dice, se l'era finito 20 metri, un burrone… Io ho appena detto che questo è morto, cioè io da allora non ho più… Non è più corso. No, non ho più corso, ero già sposato, avevo due bambine piccole… Cioè hai perso quel non so che… Sì, a parte che ci volevano un sacco di soldi. Però la tua presenza qui con noi lo dimostra, hai tanti ricordi che riguardano la tua attività. Io personalmente, come ho detto all'inizio, sono molto orgoglioso di averti ospitato… No, grazie a te, io tu sei presidente di un'associazione… Che si interessa di auto e moto. Devi sapere allora… Che tu c'hai? No, cosa c'hai tu? Ma io ho avuto una collezione di macchine d'epoca… Ma avevi una mini… Una mini… No, forse sbaglio io… Beh, le macchine più che mi vengono veloci in mente, l'ha detto Maso Valle Lunga… La Dino… La Dino… La Dino… Spider… Che era Dino Fiat, aveva il motore 2.4 Ferrari, no? Certo. La 2006 Alfa Romeo Spider… Vedi che tu hai nel tuo DNA… Le ha avute tutte… Le ha avute tutte… Non solo la passione di essere pilota, ma anche di possedere belle autovetture… Beh, qualcuno si era comprato qualche appartamento, io ne avevo due macchine… Poi non era so niente, però… Allora, concludiamo la trasmissione ringraziando Riccardo per la sua bellissima testimonianza… Lo ringraziamo perché… È una chicca? Eh? Sì… Siamo riusciti nel rally del 68 con Alessandro a cambiare una ruota… Abbiamo creato una volta… Senza cric… Non mi chiedere come l'abbiamo fatto… L'abbiamo cambiata… Con la forza delle braccia e della disperazione… L'abbiamo cambiata senza cric… Eh… Questo è un insegnamento… Allora… Attenzione… Quando bucate una gomma… Telefonate… Telefonate… Grazie veramente di cuore a Riccardo… Grazie a voi… Buonasera… Alla prossima puntata… E un ringraziamento costante all'Hotel Sardegna… Grazie di cuore a tutti voi… Grazie a tutti.